I passi dell'ombra. Scritto e letto da Damiano Mostacci. Era una fredda domenica sera di novembre, quella in cui mi apprestai ad uscire dal pub avvolto in un cappotto blu scuro e in una sciarpa felpata che sembrava inghiottirmi vivo. L'ambiente caldo del locale svanì di colpo non appena l'ultimo di noi richiusse la porta, lasciando il posto al gelo e ai pochi lampioni che emanavano una luce fredda e inconsistente. Mi risuonava ancora in mente quel motivo irlandese che un vecchio dai capelli arruffati aveva seguito con il suo violino. Una melodia piena e pacifica come un abbraccio che si era diffusa per il locale amalgamandosi alle voci e al rumore riposate dei commensali, mentre in bocca aveva ancora il sapore forte e amaro della birra nera. Mi congedai dalla mia cricca di amici e mi diressi alla macchina se non che mi ricordai di averla parcheggiata dalla parte opposta del centro storico. La stanchezza stava sopraggiungendo, aiutata anche dalla digestione e soprattutto dal diabolico liquido. Emissi un sospiro e mi incamminai attraverso i vicoli interni del paese. L'aria era limpida, pulita come la luna pallida che si stagliava sopra i tetti delle case antiche. Nel silenzio della notte richiaggiava nient'altro che il suono dei miei passi lungo i sanpietrini. Le persiane, per lo più scrostate, erano quasi tutte chiuse, imbattendomi solo in una luce fioca che proveniva da una camera spoglia al primo piano di una casa, ovattata dai vetri opachi e sudici della finestra. Man mano che camminavo la sonnolenza svanì e lasciò il posto a una lucida tranquillità. Percepivo l'immobile moto dell'universo calare sulla via dormiente della città, sui portoni di legno che conducevano ai giardini interni e agli orti soporiferi. Svoltai per un vicolo curvo per accorciare e arrivare alla macchina in metà del tempo. E fu in quel momento che ebbi la sensazione che il suono e l'andatura dei miei passi non erano in sincronia. Mi fermai. Ero circondato dal silenzio più totale. Ripresi dunque a camminare e in poco tempo lo avvertì di nuovo. Il rumore che udivo e i miei passi non coincidevano. Continuai a muovermi, rallentando però l'andatura. Ora la differenza si fece ancora più marcata, i tempi si erano dilatati e quando il mio piede non aveva ancora accennato ad abbassarsi il tonfo di una scarpa riecheggiò nel vicolo. Era chiaro che non ero solo. Il fatto di per sé significava poco o niente se non che un'altra persona stesse camminando per la strada, magari per tornare a casa. Eppure in quel momento mi procurò un'insolita agitazione. Presi ad accelerare il passo, ma quella presenza non si allontanava da me. La sentivo farsi anzi più vicina. Mi voltai, con gli occhi aperti come quelli di un gufo, compresi di essere paranoico quando non vidi altro che una strada. Nel frattempo mi resi conto di stare girando in tondo. Dovevo calmarmi. Mi fermai dunque e presi a fare dei respiri regolari e controllati. Poi alzai lo sguardo. Da dove ero venuto? I vicoli del paese sembravano ora un labirinto notturno e i molti punti di riferimento a disposizione parevano essersi dissolti di colpo. Imboccai un'altra stradina che vagamente ricordavo portare verso la piazza, cercando un qualsiasi angolo che risultasse a me familiare, ma non potei fare altro che continuare a camminare e vedere dove mi conducesse. Provai un senso di completo smarrimento. Poi di nuovo quei passi. No, non è possibile, pensai. Aumentai la velocità e ancora una volta quel rumore si fece più forte e deciso. Potevo udirlo con chiarezza fino a sentirmelo dentro le orecchie. Allora, in predal panico, accelerai fino quasi a correre, guardando a destra e a sinistra ad ogni incrocio alla ricerca della via più plausibile da prendere. In balia di una paura non meglio identificata, mi aggiravo per le strade interne del paese, mentre quella presenza era ancora lì. Me lo sentivo. Potevo avvertire i suoi passi regolari e scanditi come il ticchettio di un orologio. Ormai non sapevo più se la vissi ancora alle spalle o se mi stesse girando attorno. Mi bloccai. Poi, sentendomi messo alle corde, cominciai a parlare impregando verso un qualcosa che forse non esisteva. «Maledetto! Fatti vedere!» urlai. Ma quella carogna continuava a celarsi nell'oscurità. Mi sentì il cuore in gola, assordante nel suo irrefrenabile pulsare. Pensai di aver perso completamente la bussola quando nel terrore riconobbi una via. Mi ricordai che era la strada che portava al teatro. Da lì poi sarei sceso al corso fino ad arrivare in piazza. Ripresi allora a correre, cercando di spezzare il fiato. E quando arrivai, vidi qualcosa che mi fece rallentare fino a fermarmi. Notai che la porta del teatro era aperta e da dentro proveniva una luce. La mezzanotte era passata da un pezzo e quella sera spettacoli non dovevano essercene. Mi voltai e dalla strada che avevo percorso distinsi con chiarezza il suono dei passi in lontananza, veloci e repentini. Se fossi entrato là dentro, pensai, sarei stato al sicuro. Così vi entrai. Ora, davanti ai miei occhi c'era soltanto il sipario rosso del palcoscenico. Nella sala d'ingresso e lungo tutti i corridoi non avevo incontrato nemmeno una persona. Che cosa ci faccio qui? Mi chiesi. Alzai lo sguardo. Tutto era in funzione, ma non c'era nessuno che potesse usufruirne. Il lampadario di cristallo illuminava gli affreschi settecenteschi del soffitto. Un tripudio di maschere, personaggi dall'aspetto farzesco e angeli, mi osservava dall'assù. Poi le luci si spensero e la platea scomparve. Il sipario calò e fecero la loro comparsa delle figure alte e longilinee, bianche come la neve. Portavano tutte una maschera di diverso colore. Il loro aspetto era simile a quello di alberi spogli. Fui assalito da un terrore incondizionato che mi entrò fin dentro le ossa. Cercai di andarmene, ma il mio corpo era come paralizzato. Tentai in tutti i modi, richiamando ogni muscolo e ogni fibra, ma qualsiasi sforzo risultò completamente inutile. A quel punto una musica iniziò a suonare. Lieve, leggera. Dapprima un tappeto di archi, poi un flauto, infine un oboe. Di fronte a quella melodia rimasi basito e cadde ogni mio tentativo di opporre resistenza. Le note alleggiavano nel teatro come le acrobazie prodotte da uno stormo di uccelli, formando figure di una geometria musicale di rara bellezza. Sentì il bisogno di sedermi e improvvisamente il mio corpo si sciolse. Rimassi seduto per un tempo indefinito ad ascoltare quella musica celestiale, mentre le figure sul palcoscenico si muovevano lentamente, con gesti ampi e astratti, come alberi che prendono vita. Tanto fui rapito da quella bellezza che quasi non prestai attenzione alla mano che si posò sulla mia spalla. Allora mi voltai e vidi un uomo in piedi accanto a me. Si abbassò e mi sussurrò in un orecchio parole vuote. Continuavo a non capire e mentre cercavo di districarmi dentro di me la musica cambiò. Un violino emerse tra tutti gli altri strumenti e prese a suonare una melodia piena e pacifica, come un abbraccio. Fu solo allora che lo riconobbi. Vidi il suo sorriso pieno di odio, i suoi occhi freddi come ghiaccio, i suoi capelli arruffati da vecchio. «Che cosa vuoi da me?» chiesi. Ma mentivo, perché sapevo bene cosa voleva. Quando feci per ritirare il braccio il vecchio rapidamente me lo afferrò. Provai debolmente a oppormi, ma sentì che la mia volontà era come svanita. Le mie urla erano divenute deboli sussurri. Il vecchio mi diceva che era tutto a posto, ma non mi fidavo della sua voce. Poi lentamente lasciai la presa. La musica cessò, le luci del palcoscenico si spensero e tutto si fece buio. Quando l'uomo del racconto si risvegliò, il palco era scomparso e davanti a lui c'era soltanto una parete bianca imbottita. La poltrona era diventata un letto spartano e al posto dei lampadari di cristallo c'era una luce fredda e neutra. La porta si aprì ed entrò un vecchio dai capelli arruffati con un lungo camice bianco. «Dottore, ho letto sul giornale che domani a teatro c'è uno spettacolo bello bello. Mi ci porta, dottore, mi ci porta», disse l'uomo straiato. Il dottore lo guardò e sciogliendogli le cinghie sorrise. «Domani vediamo. Ora ingoia quest'altra pillola».